E allarme sicurezza su tutto il territorio dopo i recenti episodi delinquenziali che hanno colpito diverse attività commerciali. L'ultimo mercoledì notte, quando un ordigno è stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un'edicola tabacchi in Viale Don Minzoni. Tabaccherie, supermercati, postamat, sono solo alcuni degli obiettivi dei malviventi in azione a ridosso delle festività. È proprio il periodo natalizio uno dei peggiori per il crimine, così come ci spiega il presidente della Confcommercio, Francesco Candido. Questo è il periodo topico in cui la recrudescenza criminale si fa sentire. Fermo restando il fatto che comunque il lavoro svolto dalle forze dell'ordine è assolutamente da encomio, però purtroppo questi eventi si verificano e non si possono disconoscere. Certamente c'è preoccupazione perché la categoria commerciale è quella più esposta e quindi è necessario che ci sia, limitatamente alle forze disponibili, quell'attenzione in più per evitare che di questi fatti si ripetano. Abbiamo notizia anche dell'interesse del nostro sindaco, dell'amministrazione comunale, che lunedì ha convocato un consiglio straordinario. Aspettiamo anche da quel fronte delle notizie confortanti perché il controllo del territorio risulta importantissimo, soprattutto nei periodi in cui si avverte la necessità di avere più presenza sul territorio. Il tema della sicurezza sul territorio sarà al centro del dibattito durante la seduta straordinaria di lunedì del Consiglio di Giarre, proposta dal consigliere Orazio Scuderi nella conferenza dei capigruppo. Dobbiamo capire quali sono i margini dell'azione politica per fronteggiare la dilagante ondata di criminalità, dice il consigliere PD Tania Spitaleri, e per formulare delle proposte volte alla tutela dei cittadini e delle attività commerciali presenti sul territorio. Chiederemo che l'amministrazione si attivi concretamente a supporto delle forze dell'ordine. Amministrazione che ieri, tramite una nota del sindaco Bonaccorsi, si è detta a fianco degli esercenti.